Buongiorno Amici buongiorno C'è un'altra possibilità Oggi è il vero day one Magari c'è il doppio delle persone Un'altra 6 passano a 10 Io ripeto l'altra volta Ci siamo comunque almeno divertiti Poi è stato come è stato Mamma mia come mi scatta Adesso non più Ma perché è aumentato l'audio al massimo Mi ha rimesso il motion blur Allora adesso nel lab Quando faccio a destra e a sinistra Mi scatta un leggermente qui di prima Ognuno c'è un problema specificissimo Grazie sommo lievito E anche perché Io quei due vedo C'era anche Nico C'è anche Nico Nuova sub benvenuto 30 minuti fa anche Ha fatto una sub Grazie anche a Monti Io non riesco a tenere aperti gli occhi stamattina Grazie a Aeros Aeros Siamo quest'anniversario palindromo Ah perché 11 Ciao bello grazie Ma io continuo a vedere Ma non è vero Sono in ritardissimo Quanto abbiamo detto i veloci Aeroe smonti e acqua e menta Tutti assieme Infatti ai train fate che sbloccate Cagnolini Sbloccati Angri Veneto Amici andate avanti Che finalmente nel live train Appunto ci sono delle cose divertenti E fanni Non è vero Non è vero A me stanno simpatici Sono facce di cani Non è neanche facce di cani Che fanno qualcosa A me stellina Non me lo dici Franci comunque Sono un uomo virile Mamma Peloso Allora Chi devo invitare Nessuno Invita gli Ezra Ho deciso Amici ho visto Jupiter's Legacy Lo dicevo anche a loro E Eri presente Mentre parlavo Eri presente Ho visto Jupiter's Legacy E la prima puntata E' un po' troppo Lenta E anche degli effetti speciali Un po' trescini Ormai lo devi fare E' infatti Però se andate oltre La prima puntata Che poi ingrana la trama E' molto carino Ve lo consiglio Quasi Ve lo consiglio Grazie Nicola Grazie Nicola No vabbè dai Ci sta Ma se non avete niente da guardare Ma no anch'io l'ho fatto No adesso già ho riuscito Eh io sono entrato In una partita Ah ma puoi uscire subito Ah moro eh Perché non c'è Nulla matchmaking Comunque Ma chi è sta gente Fuori dalle balle Beh Ma ora Avevi già trovato Una partita quasi piena Come possibile Bravo Beck Di a tutti Che devono partire A giveaway Bravo bravo Così Oh oh Cavallo Oh oh Io sono pronto Ad essere invitato Beh è appena fatto Non è vero Invece si Di nuovo il problema Non prenderci in giro eh A me ha invitato Ingresso nella sessione Vabbè non c'è Perché Ciao 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 Come stai bello Perché sto gioco fa schifo Ma sono veramente troppo bello Ma perché gli azar hanno le scarpe Da tamarro Così sotto Perché ho più il gioco Sono le scarpe di Ma anche tu ce le hai Le bull boys Sono le scarpe di Quicksilver Nel Avengers Stage of Ultron Ma ce le ho anche io Grazie Sì ce le è anche te Ma io non me le vedo Addosso comunque No Sono gli altri Grazie Jung O Young Sono le scarpe da gaming RGB Sì A volte mi immagino Un gioco del genere Che ogni volta Devo chiudere Riaprirlo Se avessi soltanto Il disco meccanico Madonna GTA Però devi chiudere Riaprirlo ogni volta E' un quarto Soros So Ok Sono pronto A essere invitato Like a virgin Sono pronto Senti sta freccia Eh non puoi Sono riparato Ma qua c'è un bel pezzo di grana Che è buono Grazie Valle Men L'ultima Sono prima del trasloco Grazie Valle Men Siamo entrati? Litorale Sono duri loro ragazzi Sono tutti duri Ebbene due assassini Tanto è uguale Tipo Se può fa Se può fa Ma io non lo faccio Io prendo Prendi sempre front tag? No no Facciamo due cariconi Grazie frappezza Grazie mille Non voglio prendere front tag Mentre cura Beh che tanto la cura era inutile La sua prima volta La partita Se va bene Ah uno di livello 90 Ma come possibile? Ma come fai la faresta voglia? Sì Mi hai fatto giocare Ad arrivare a livello 90 Ah sì Io sono al 20 A parte che è il 19 Marco Però quello è 4 volte tanto Crazy Grazie mille Grazie crazy Innovo solo per i titti Mica per voi Ma è vero Sei un falso di merda Sapete che il monaco C'è un perk Ad un certo punto Che quando usa l'abilità Torna in vita È sparito E come funziona? Scusami Eh Premi la Q O quello che è E lui Se ha pochissima vita Si cura del tutto E torna in vita Ma se ha pochissima vita E torna in vita No Nel senso Sta per morire Non lo so Bene come funziona Ieri l'hanno fatto E poi Si vede che c'aveva un perche Per cui aveva le scarpe magiche Continuava a scappare E non riusciva a prenderlo nessuno Questo è il 46 Come Valentino Rossi? No no Verti Ah No Che vuol dire no? No lo rispondo come voglio io Ma sei Forse Coglione Ma quindi Dei guardi È vero che il bicipite è un palloncino Non è vero Sono quelli Sono quelli di silicone Conformate che è uscito oggi il gioco Tra l'altro Oggi Ufficialmente Che sono tutti a livello 100 E quindi non ci mette Eh no Si li mette comunque Però è uscito dall'accesso Cercavo una scusa Grazie Samuel Grazie mille per il tuo vizio Sei molto gentile Sembrava un pene che usciva dal cuore Quelle motte Come? È vero Un pene piccolino Marco hai un bellissimo vestiero Ci è veramente bella sta tunica No non sono gonfio stamattina Sono così Sono stretto semmai Io ieri ho visto le puntate E ho fatto un po' tardino Io no Ma vedi che Devo andare a letto alle 4 Basta di andare a letto prima Se vado a letto prima Mi sveglio rincoglionito Se vado a letto alle 4 Sono fresco come una rosa Ragazzi ma perché? 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 Cosa? Tutto Quello che stiamo succedendo Perché? Metti pronto Che magari partiamo Ma così No no John L'Italio anche Guarda Sto weekend Che ho fatto un po' Ho camminato Ho fatto un po' di roba in giro Avere i capelli davanti agli occhi Mi ha fatto ricordare Quanto è bello Avere i capelli corti Basta Basta capelli lunghi Attenzione Attenzione Partita Li voglio i capelli Ma corti Che viene le due su discord Potevo giocare A Ianna A Giucat Jacopo A Judgment Judgment Robin Hood Qua potevi giocare Robin Hood Oh Ragazzi Una partita la facciamo almeno Adesso vediamo L'ho detto bene La facciamo Poi Io c'ho sempre paura Che sto gioco Possa anche crashare Da un momento all'altro Io c'ho sempre paura Che sto gioco Possa far cagare Da un momento all'altro Guarda quello Penso che Allora Vediamo Dai forza Un po' di attività Moro Sei partito malissimo E adesso parto piano Allora C'è una guardia lì E' una guardia valdostana Questa bisogna spaccarla Ma scusa Ho traccato un nemico Ma ho fatto più 25 Grazie Rica Ma si potrà scavalcare con la E Moro piano piano Io io No Io mio Io mio hai detto Grazie Rica Grazie bello Grazie Rica Ma c'è Ah l'hanno sgamati Prendiamo questi Ho ucciso quello davanti No è vero Mi vibra il pad Mi sono screwed Ah si può togliere la vibrazione adesso Come si fa? Come si fa? E' sul gioco Aspetta Stanno conquistando C Vibrazione Ok uno è qui davanti a me Aia Non vedo Ma stu scema Non vedo Non vedo Non vedo Le abbiamo spaccate tutti Prendiamo questo punto Va Non vedo una fava io comunque E non ho vita questa mattina Volevo dire il contrario Volevo dire Non vedo un cazzo stamattina E non ho vita Punto Un tremone L'ho colpito Gli ho fatto la bua Scappa via Guarda quanto veloce Se l'è presa tantissimo Ma ma corre velocissimo Frattracchio Guarda guarda la mossa Bravo bravo La mossa è quella Non ci hai preso per un Peter Con i fianchi Questo qui ci baita Moro sta morendo C'ha un HP Moro ti ammazza tutta la vita Oh no Dai mi ha fatto il pedo Però l'ho ucciso Ti è Ma è che si operava Con barra? Si con barra Barra Sono morto da The Great Dandino The Great Cali Ma perché non le ho fatto nulla? Ci sono delle freccine per caso amici In caso spontaneo Ma sono umbriaco? Mi potete prendere A Io vado con Gianluca Perché è uno che ne sa Ah hanno trovato lo schieriffo E là Come ci arrivo? Io posso aprire Le cataprottole qua Fammi aprire Gianluca è il baffo Sono qui Eccoci Dov'è? Dov'è il? È lo schieriffo È Tipo da sta parte qua Mi hai quasi ucciso Gianluca Siamo Buongiorno Oh sono qua sono qua Ma dei punti ce l'abbiamo Allora non c'è Ma io pensavo che si potesse passare di qua Eh ma andiamo a cima Riapri il laser Dovemmo bastare Ma il jumper Eh io non posso Hanno preso la chiava Dov'è? Di là Eh dobbiamo andare di qua Oh Chi mi spara? Oh oh Gli spacco la faccia Chi ti spara? Eh Nozgot cap Ah no mi ha preso lo schieriffo Ragazzi Ho visto Una laggata Ma una laggata Mi ha ucciso Quanto sto laggando Oh dovete venire qua Che Vedi Sono gli stronze Merd Arrivo Mi vado a prendere C E poi arrivo Ma per te che può essere C Mi ha preso lo schieriffo Di Merbertals No di prepinta Ma io vedo muovere tutti strani Allora io ho colpito Della pecce in questo momento Ha aperto la porta Porta miseria Dai scappa via Ah non mi prendi Vado sopra Fuglia Fuglia Ah sei tu questo I mortacci Ma K K Come se non ci fosse un 2 maini Ma K Come se non ci fosse un 2 maini Ma si morte subito Eh avevo metto Lì di fianco Non l'ho colpito Per quanto prepuz No Ecco Sì Sì Stanno andando Alla Ce n'era uno qua sotto È un assassino Ahia Mi ha fatto la guatone Ragazzi Ahia Si sorta Mastice Mi ha ucciso C'è un HP Però amici Sì Oh c'è Giampietro Lassopra Eh ma Ah ma qui c'è il cancello chiuso Però Con la calma Che vale Che quando c'è il cancello chiuso Che cacchio faccio Ho preso il giro Eh io e te Noi siamo bloccati Non ci sono i passaggi Tutterranei L'abbiamo sfondati Ahia ma questo Ah non è Ah si tu sei Ma perché c'è la marraviola Bastardo Dove andiamo Eh non lo so Vogliamo andare Dove è più vicino Il villaggio Dove è? No ma scendete al buon Ah è vero si può scendere Ma se scendo di qua muoio Non è vero Non muori La bigfoot Ma Eh invece Ah no L'hai lasciato Non se l'aspettava A due john travolta Oh no Oh è questo? L'ho ucciso Oh L'ho ucciso quello sopra Oh ma non si può prendere più Lo scrigno Non se l'aspettavano Eh niente ragazzi È persa C'è solo rampicati sulla corda Io mi sa che non posso Quello a prescindere Ragazzi No no tutti lo possono prendere Raccogli scrigno Raccogli scrigno Aia Eh occhia che c'è l'assassino Ah no Vi ho buttato la puzzoletta Sono morto Ma Marco dove cazzo era nel mento? Era dall'altra parte Io stavo Eh si Li stavo arcerando dall'altra parte Dove sono? Dove sono? Questo solo perché Non potevo raccogliere Le gonadi lì Oddio Mi seguono C'è uno stronzo qui Eccoli qua Tu scema Dovemmo Dovemmo Qualcuno dovrebbe andare a prendere Il loro punto Provo Ma che si lanciava la granata? La G Bello Che non ti puoi parlare dalle frecce Luca devi aprirci anche questo Io c'ho Quattro frecce Dai posso difendermi ancora Ma non è qua sotto Lo scrigno? Eh ma io volevo andare di là Per rubargli tutto Che devi rubare? Dobbbero rubargli il punto Eh Dove l'hanno portato lo scrigno? Ah sono qui che stanno trichettando Ma ho preso gli Hazard Ma forca miseria ogni volta Eh mi stanno ammazzando Ma forca bestia Ogni volta Ogni volta Eh Palla assassina No che palle sta seccando Non vedo un cacchio Per sei mesi Eh mi hanno assassinato da dietro Non ha vita l'assassino Sono illuminato di menchia Non vedo più una fava Sempre con stai accercanti Ce l'hanno ogni due minuti Devo tornare sulla mia postazione Madonna l'assassino quanto troppo è sbroccato A me gli servono tre colpi leggeri di giorno per ammazzarlo Ma lui con tre frecce ti ammazza L'ho colpito Grazie Samu Samu Grazie Samu Gli sto impedendo di andare avanti No c'è un altro Mi sa là dietro C'è qualcuno che c'è da passare Sia passa Ho sbagliato strada Sì ho sbagliato strada A sinistra gli Hazard qui Eh ce l'ho anche a sinistra qui Mi ha colpito C'è un arciere sopra Sta arrivando sopra uno Ma noi ce ne sbattiamo Beh è andato l'assassino là dietro Ma come è possibile? Ma non era invisibile Eh ma ti può prendere comunque Sì Mi è arrivato dall'alto Mi è arrivato Ma io come passo qua ragazzi? Che c'è quello davanti alla porta Vabbè Vai giro io giro Arriva nessuno? Vai Moro Io come passo di qui però? C'è davanti il pippo Davanti al... L'hanno mai preso Ho fatto un punto E non c'è uno davanti alla porta? Vabbè si fa fuori questo Non è morto non è morto Ma guarda che sono al punto loro eh Arrivando Arrivando Che c'era uno davanti alla porta grosso Non riuscivamo a passare E da portarlo lontano Ahia c'è l'arciere che mi sta colpendo dall'alto pure E allora spaccami Eh non riesco a passare Mi continua a colpire quello di sopra Sto continuando a nascere e morire Mi sono posizionati bene Niente Andiamo per dido Facevo la scala e mi uccidevo Mi hanno appiccicato la bomba addosso Sì Devo aspettare per forza 30 secondi Torna là Ah no Ma che schifo Zero euri abbiamo fatto Sì Sì se non vinci Se non vinci veramente ho avuto il danno Più che altro siamo morti subitissimo C'è la parete è durata niente Eh Minchia l'esperienza a zero Ma riprovamose Non ho l'acqua amici Io l'ho riempita L'ho già finita però No non è vero L'ho già bevuta un botto È una situazione di dick Rainy Man Sarà in due come al solito Facile Infatti è accampamento dei fuori legge Anche io sono uscito Classico Bel gioco Fammi acquittare Fammi acquittare Fammi riaprire Nelle mani Videocollezionabili Quella fine Quella fine basterebbe scrivere Semplicemente Demo Alla fine del nome E uno dice Ah ok O pre alfa Esatto E uno Però che non funziona Corre con il caccone nelle mutande Sì Sono pronto per essere invitato Con le gambe strette Eh vi ho già invitato Eh no mi devi re invitare Perché non vedo l'invito Io non ce l'ho l'invito Adesso lo vedo Adesso anch'io Ma poi perché quando accetto l'invito C'è da premere ok Ma non faresti mai in tempo A premerlo lo stesso Quindi a sto punto cosa lo metti a fare C'è scritto premi ok E però non fai in tempo Perché entri nella sessione Quindi cosa va What time is it? Summertime Per metà vi Metà cosa parte Metà stamina Sì Per questo attacco che comunque Non è E' schifo il mullet Moro togli E' facilissimo da schivare Che è successo? Fa vomitare il mullet Cittadella Pronto Beh 95 78 Nooo Cosa fanno? Nooo Nooo Cosa fanno? Ti è arrivato un motorino dentro camera Va de retro Ma sono tutti di livello in... Ma quanto ci han giocato? Non ci credo che hanno giocato Niente stanno montando una tenda quindi Con il trapano Eh a quanto pare Eh ma perché si devono disegnare sopra Che cazzo vuol dire? Mi smitto il trapano Eh con il trapano Ci devono fare i disegni sulla tenda No ma una tenda di quelle da mettere Ai muri tipo Eh sì Come si chiama? Sì ma era una cagata la mia Una tenda sì No perché magari pensavo a una tenda da campeggio E tende da sole Esatto Prende stanno montando due Quindi sono tende in compagnia Stanno montando la tenda da aprire il campeggio con il trapano Con la chiave per la camera Ah ah Questa cazzo l'ho già vista Ah trova la camera vinta Ah ecco cosa si deve fare Ah è strano lo scrigno Ah è strano lo scrigno Ma che storia Con le carrucole poi lancialo di là e basta No veramente Cioè l'hai portato a mano Portalo a mano anche sulla barca Bene va che... Ma com'è? Ma sono già qua Gianluca Eh se c'è forse sentire Moro Sì Ok mi sta scattando tantissimo Io ogni tanto vedo la... Gli omini che si muovono strani No vabbè Anche a me credo abbia fatto quel che scatto Il server di patatine Ma ho visto il simbolo del... Sceriffio di là Si è già Ho uccisi un paio qui Non so Lizard Vuoi andare a prendere C Lo sceriffo? Eh no Io ho ucciso una guardia sola e basta Hai già visto? Eh si ha già la chiave blindata Passate di qua passate di qua Ah merda c'è la tua Aspetta che sta andando a prendere C Eh sono un po' lontano io Eh c'è la guardia Ammazzela Eh non posso io Voglio fare il giro Ah ma non rimane aperta la porta Ma che cagata Si vede l'animazione di... Eh da me? Ho visto Ma questi due? Ma stupido scemo Eccola qua la chiave Le origini di fila non ti basta per arrivare al 90 Ci sono dunque Fanno molti di più Passi 8? Come si scende? Come sei scendo? Allora Scavalca Come? Come avete scavalcato? Perché non l'ho colpito mai? Boh Sono io qua davanti Ma soprattutto Perché è così veloce Aspetta mi abbiamo tirato una freccia Oh Con ste cazzo di pippe Degli occhi Io non vedo Aia ma sono tutti qua ragazzi Ma abbiamo... Ma scusa Ero subita Allo Sheriff ha ucciso il mio nemico Non ha divisa Aia Ma le armi ma non le usa Non ho la stamina Allora vado via al cial Dove è andato quello con la chiave? Non ho inseguito da molta gente Chiave si può dire Scappemo Non mi avrete mai E questo? Chi mi spara? Non abbiamo preso neanche un punto Quelli si sono scordati completamente Amici ma quanto mi devono inseguire sta gente Ma puoi spammare gli atti Che gioco di merda Lizard che schifo Eravamo un tutt'uno Ma mi ha ucciso Lundini Guarda gente sta arrivando Hanno preso il pacco E dove sono? Al ponte sul bosco Di gotti ragazzi Ma la vita dov'era? La malavita è un po' ovunque Lo vorranno portare qua Lì c'è lo scerifio Gianluca ti sto seguendo perché sicuramente in due è meglio che uno Ma gli hai messo il dito nel sedere? Ah non lo so io Ma non sappiamo dove lo scrignio Poi c'è il scerifo Lì davanti c'era anche un disgraziato eh Gianluca Eh boh andiamo davanti Sei morto? Eh l'arcele si Ostia Oh che palla è questo Bravo Gianluca Menaglie menaglie Eh sì È in basta Bravo Per fortuna che vedo la barra rossa della vita Ma dove lo stanno portando più che altro? Dove hanno lo spawn? Ma lei arriva dietro così e ti ammazza così dritto per dritto Ma chi ti arriva dietro? L'assassino? Sì 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 Ma sa che prima il tasto però compare veramente in una frazione di secondo E li spammandolo e hai fatto Ah questo qua che può schivare all'infinito Marco riesci a prendere dai prendi B? Ah questa mi ha ucciso nonostante posso inulti Ma non l'ho presa mentre ti Oddio Non posso spammare Cioè non posso spammare No ma ragazzi ma l'assassino ma Ma non posso batterla è impossibile No ma poi basta schivare Basta schivare e recupera più stamina di quanto tu ne spieghi per inseguirla Ha ucciso sia me che Gianluca Sì sì ma guarda è veramente A parte che mentre ti faceva l'esecuzione Gli ho tirato la freccia e gli va attraverso Perché non puoi colpirla E quindi io ho finito Io quello posso fare Eh non è che tiro le frecce E niente l'ho preso il sindaco Oh il sindaco no Il sindaco Sempre il sindaco Sempre Beh il sindaco ormai basta Passiamo a partito 4 assassini Ma guarda che sai che potrebbe convenire La prossima partita Apex Andiamo di qua Andiamo su Warzone Però guarda Ma a parte che stanno lamentando tutti che fa schifo Oh e questo occhio No ma è una persona Arrivo Quanto sono lento Non si attiva la patanzica Guardala L'ho colpita manca un HP Eh non posso prenderla Io sì scema Che caduta che ho visto Ma più che altro Ma dove cazzo è sto scrigno soprattutto E non lo so La squadra non è mica lo scrigno rubalo E dove minchia la lasciata Ma mi hanno tirato una freccia? Chi è stato? A fare cosa? Hanno chiuso la porta dietro di me A me stanno... Eccolo qua lo scrigno Oh c'è uno qua Andiamo al punto Prendiamo E' esplosso Era l'arciere questo eh L'ulti dell'arciere Seguo moro io No Non sto capendo dove... Dove hanno... Beh era qui era Eccolo lì Eccolo lì E non mi compariva Oh chi mi spara? Ma l'ho... Trapassata! Ma dai! Ok L'uccisi due qua Dove lo scrigno ora? Ma era qui era? Era effettivamente... Qua E' escaped Dove è finito? Ma perchè compare... Ma io non vedo niente in alcuni punti ragazzi Diventa tutto nero E' la luce che è C'è qualcuno qui Eccolo... no Questo qui chi l'è? Non c'avevo lo scrigno però E' sparito di nuovo lo scrigno? Si E' un paruto Loro lo sapranno però Stiamo in zona E' vero Loro lo sapranno si Resimo Dici? Vediamo... Vediamo dove... Dove vanno E li... Li... Trucidiamo Lo cerco Con i miei occhi da... Eh... Viagiscan Ma poi sento dei rumori A volte a 12 km di... Eccolo lì Eccolo lì ho trovato Maledizione Prendilo su Sono qua Sono qua Non so come scenda Senza Isaac Ma questa signora La riportiamo E' ha fatto l'esecuzione Perché basta che... L'ho ucciso l'arciere Anche l'altra Ma... Non so... Non so quando... Non si andava Porca puttana Porca L'altro proprio senso Mettere... Ragazzi sono un fenomeno Un personaggio Che ti può andare Alle spalle In un gioco in terza persona Che quindi non guardi Dietro le spalle Perché vedi dietro le spalle Un cazzo l'ho ucciso Il sindaco Ero invisibile Ma... Già ci metto 7 anni A caricare l'invisibilità Ma questo Mi ha fatto a vederli Mi restauro la fissa Non stai restaurando una fissa No mi hanno colpito Tutti il loro team Mi ha colpito Però arriva lo sceriffo Qualcuno di loro lo uccide Ho scenduto qualcosa Un cazzo Un cazzo Un cazzo Proprio così Ero in chiesa Ero in chiesa Ma porca puttana Ancora con questa merda E poi ti andrà alle spalle Ti tira Ti tira il dito E scorreggi Chiamolo di qui Come lo porto via Vaffo Ma faccia Oooo non prenderlo Oh Èbanguru Ma guarda che non li colpisco sti scemi No muoio Ma chi è che continuano a lanciare Ma non nei posti C'erano ogni secondo sta merda Vabbè Corroi no? Eh mi ha ucciso una freccia Ma poi come si chiama? Ma come si fa? Bisogna aprire prima una porta Eh moro è aperto Ecco qua Arrivò C'è un altro ancora qui Prendete lo screen you che ho portato fuori Ma qui è aperto? Eh si lo sto prendendo io Non è morto Vabbè ma gli trapasso con le frecce Ma c'era un'altra porta L'assassina l'avete accisa No perché la freccia lo trapassa Quando fa quel movimento Lasciatemi Tutti davanti a me Lasciatemi Ho pochissima vita Aspetta che mi faccia ammazzare Che così poi posso tornare Dai attaccami Ok Credo lo screenio Sia comparso solo nei momenti in cui L'avete accisata Non mi da la cosa Non puoi farlo se non è di sorpresa Mi hanno ucciso gli Ezzar Shottato Ah si c'è l'arciere sopra Posso accovacciarmi? Sono due arcieri sono Vi aspetto qua Vi aspetto Sono due arcieri in assassino Non voglio abbassare lo screen No mi stanno Gianluca torna indietro Stanno riprendendo il punto Sono fatto lo stesso Ma mi hanno visto Non c'è più nessuno Stanno andati via Ebbene Comparso l'arciere Ovviamente Questa cosa qua Perché c'è l'arciere davanti Ma quante ne ha di queste cose? Ma continua a tirarmele Eh ovviamente Sarà un perk Diventa God Sì ma ha tirato 20 Come si chiamano? 20 lire Le Le flash Le flash Ma un sacco E l'ha tirata una E poi dopo due secondi L'ha tirata un'altra Oh ma questo è più duro Ci sono gli arcieri Ma dove Non ce la fate venire qua voi? Sto arrivando Sto arrivando Con la calma E mi hanno ucciso Niente Ma da mo' Sì or Allora Come si arriva là? Vabbè io ho perso vita Perché mi ha Anziché farmi la E Mi ha buttato giù Vabbè questo qua continua A schivare ovviamente No vabbè ragazzi Sono indecenti Ragazzi C'hanno dei perk Veramente che non Ma siete tutti morti Sì a me hanno uscito Sono arrivato per aiutare Gianluca E sono sparito Dopo mezz'ora per arrivare a quel punto Penso io Ma più che altro è troppo più forte schivare rispetto a fare il Perry Ma più che altro è troppo più forte schivare rispetto a fare il Perry Ma scusa Ma scusa Io lo voglio disinstallare ragazzi Ah uno Era qua dietro nel cespuglio Mi sono ucciso sto scemo maiale Tanto è pieno di gente morirò poco dopo E vabbè sono invisibile ma tanto si vede Cazzo serve l'invisibilità se tanto si vede Eh vabbè mi hanno ucciso niente Invisibile solo se non ti guardano Esatto Quindi mi arrivo sempre da lontano con la nebbia Mi ho girato di spalle Ora almeno tu arrivi Ma è perché io vado stealth Cosa succede? Ma che è successo? Oh Ma ha trapassato il muro Sono andato avanti va bene Ha attaccato la bomba pure E da mezzogiorno che si fa Ah guarda ragazzi Non so Gianluca che giochi c'ha i tuoi installati? Dimmi un po' Eh Apex No boh non ho Non ho gran che dai Ma guarda che skill c'hanno Stiamo ancora una Magari si mi equilibria un po' Sì Come 0-0 Ma ha fatto un buon A me 25-25 A me 30 totali Ma perché 0? Scusami Boh Ho fatto almeno le kill le ho fatte Un minuto da Ah anche quello Immagina di uno fa un quarto d'ora di partita E per 0 soldi E mi ha dato proprio più esperienza di prima Non so perché E' vero anche io Prima ho fatto molto di più Però mi ha dato più esperienza di prima E' unica cosa ho fatto più kill di prima Ma mi ha dato 0 Prima ho fatto meno kill Ah ecco vedi E' stato disconnesso E' stato disconnesso Ah E' stato disconnesso E' stato disconnesso E' no Facciamo l'ultima E poi vediamo cosa giocare ragazzi Eh devo chiudere il gioco E' riofrirla Ragazzi Non vi piace Immagino non piace neanche a voi Adesso facciamo l'ultima Ma noi siamo tenaci noi Ce ne sbattiamo ragazzi Se è brutto Perché i giochi brutti Sono sempre più belli Ma l'altro Ecco ma Almeno ci siamo un minimo divertiti Ragazzi è terribile questo gioco Non so come Una casa di produzione Possa pensare Ma si Se non trova la gente Mettiamo quindi livelli 10 volte superiori a loro In un gioco Dove le abilità Fanno tutte Eh c'hai i perk Porca miseria Perché io ero continuamente Accecato Non è possibile Quando vuoi invitermi Ma poi a parte questo In un gioco che ha 4 personaggi Quindi non 10 200 mila Fai fatica a bilanciarli Un po' meglio Nel senso come fa un assassino Semplicemente andandoti alle spalle Anche se lo vedi A shottarti Ma poi cosa vuol dire Che io posso solo tirare le frecce E mi rendi Immuni le persone alle frecce Quando fanno le animazioni Scusa io che devo fare E poi le casse di frecce Che ne trovi una ogni 60 anni Esatto Ho 7 frecce 5 vanno sprecate Perché sono intangibili Io cosa servo Sbudevo l'arco Cos'era il per l'ice simulator Oddio Era l'assassino Che stava maciullando Gianluca Così con dei coltelli Perché l'invito non mi arriva Ma devo andare a guardarci La scena è stata questa Eravamo io Gianluca contro l'assassino L'assassino prende Gianluca E inizia a spudellarlo fortissimo E io gli tiro le frecce Ed è intangibile E che faccio lo guardo Che spudella il per l'arco E l'avevo anche visto Solo che lui è stato più veloce Di me andare dietro alla schiena E spammare un tasto Oh Vabbè E poi però Se tiro una frecce in testa 1 Lo shotto anche se non è davvero in testa Questo gioco Avevamo molte speranze Sì Adesso Beh c'è anche da dire Che sono svanite anche il primo giorno E' vero Sono svanite al tutorial Però Ce l'avevamo Prima del tutorial Attenzione C'è più otto E anche da zone La faccio Mia mamma fa il vaccino Il 2 giugno E 4 Attenzione Ma che storia Questi di spazio Qui ci divertiamo un sacco Perché vinciamo ragazzi Scommettiamo di no Attenti che questi Attento che questi sono smartphone Ciao smartphone Ho fatto più giorni Ma 4 honor Almeno ti menavi Scusami Era bello C'è divertente Io ho fatto più di mille ore di 4 honor Non c'è niente di 4 honor Non c'è proprio niente Però come ho capito Anche noi lo dicevamo Prima di giocarlo C'è Semplicemente perché Un combattimento in terza persona Però no Ma pensa Di 4 honor ha lo stesso problema Nel senso che il matchmaking Dura una vita Allora sì Allora non c'è un giocatore Però con Ma che posto è? C'è con questo A quei 3D Non l'avete mai fatto? No No Ma Ho troppa violenza Allora Cosa vedono i tuoi occhi da ilfo? Lì davanti è pieno Di occhi da ilfo Ok vedi questo qua mi aveva visto Ma gli sono andato di lato Ma di solito A me non funziona quella cosa lì Anche se gli vado dietro Mi fa Non mi appare la E No ma io non Non aspetto che Che spunti Lo spammo e basta E prima o poi capiterà Al posto Bravo little johanna Ti ho tirato una Martellata sul piede Sì Sì Chi è? Chi è? Però dai apprezzo che c'è gente che gli è piaciuto così tanto che è arrivato al livello 90 dopo 3 giorni Beh secondo me puoi modificare i file Se vinci sali sali molto velocemente eh Ma secondo me puoi modificare i fileini e ti metti i fileini quelli piccoli I fileini quelli piccoli Già di aver attivato qualcuno che non vedo però Sono dietro? Ma no Buon Grossissimo lui Era dietro si Ah era dietro E' quello che ha ucciso l'Ezzer in teoria Se l'ha ucciso l'Ezzer Ehm io l'ho ucciso quello Io vado Dove cazzo state andando? Dove non c'è niente in teoria Guarda 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 Gianluca l'hai visto? Beh Ma che vuol dire? Basta con queste frecce di plastico Per quanto Mi devo impiegare ad ammazzare un soldato semplice Un soldato secco C'è gentaglia lì eh Non ne vado Oh eccolo lo schierifo Ottimo borseggiamolo Ok ho ucciso due e tre moni qui Faccio un matrimonio Faccio un sacco di vita saltando dal Ma al solito se trovate frecce ragazzi siete Che perché altrimenti non posso giocare Tiro un pugno Sì anch'io ho partecipato Eh vado io a prendermi l'occhio Tirate su Andiamo a cercare la... Aspettati tiro su Però sta guardando proprio in questa direzione Vado 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 io Marco va lui Perché sei andato Mi sono a destra che vuoi? Sono le frecce Eh ma non... Ma basta Però potrei tenermi la porta aperta Eh no vado a cercare la camera io Andiamo Liezza Andiamo perché ormai è qui in realtà non volevo esserci anch'io Apri apri C'è una persona lontana lontana Ma si è aperto di nuovo il cancel Che fatica Non siamo più in allertia Uccidi sto Ma... Ma... La camera blindata è in chiesa Uh è qua lo scierico E' questa la chiesa Dici? Aspetta Ah nelle catacombe? No questa è la fortezza La chiesa dalla parte opposta Aspetta ma... Chi è che è di voi? Ah Liezza Eh la chiesa dalla parte opposta Cos'è che ti dice? A che piano è della chiesa? Apri la camera blindata situata in chiesa Assolutamente Ma sarà l'ultimo ragazzi come sempre Come l'altra volta era sempre all'ultimo piano Eh ma... C'è scritto la chiave di che... A meno che non è... Di che... A che piano è? Oh c'è ci sono i tizzi Cazzo gli arts Cazzo gli arts Cazzo gli arts Cazzo gli arts Aia Aia sono morto Fortissimi loro Ragazzi non funzionano le frecce giuro Aia Le loro funzionano benissimo Aia vi si sorta Mmmmm Sono morto Ho preso la chiave Eh ho finito la stamina Siamo a B tanto Cazzo anche Eric Però non si può salire Grazie Eric Hood Grazie bello per i 40 mesi È diventato il miglior amico di Liezza Eric Hood Marco tira una freccina in sta corda Please Cazzo gli arts Marco hai sprecato una freccia per la corda Aia aia Ma qua ci sono se vuoi Moro che piedini Mmmmm Grazie ma quanto è lento salire una corda C'è perdo la partita se salgo la corda Eh serve il perche Eh serve il perche Io ce l'ho il perche Ed ero comunque troppo lento Ah 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 uno lo usc- Aioh Ciova Maledizione arriva lo sceriffo Moro Non me ne frega niente inseguo i toni La mia bella Ma Arrivo anch'io Vai io c'ho la chiesa della sagrestia La sagrestia E dov'è la cosa? Eh? La sagrestia c'è scritto Ma la chiesa non è questa Questa è la fortezza Amici ma se io gli tiro questa addosso È una parte posta Moro portatelo via Ma ragazzi scusate un attimo ma quindi questa non è la chiesa Non è la chiesa Noo è la fortezza Ma io l'ho trovato qua l'altra volta eh E chi se ne frega cambio Marco Almeno quello Beh io l'altra volta mica pensavo cambiasse Cioè premi tab La chiesa è Rovine Villaggio chiesa Sì è su A Dobbiamo andare verso A Cia puttana su A Sto scappando da questi scemi Da dove è lo sceriffo? E' qua sempre qua che gira Uh è questo? Arrivallosperiffio Ha preso lui apri la porta Eh non posso Va che hanno apertovelo vertelo Grazie Eh dai giriamoci ho tirato la bomba bravissimo si si può lino ma non serve a niente ha ancora meno senso dove stiamo andando Gianluca? è vero che è di là facciamo qui le paludi con le donne nudi scappiamo io sto tenendo a bada lo sceriffo amici ma chissà te frego Marco ma è da un'altra parte lo sceriffo anche io ero da un'altra parte saranno tutte qua ahia nell'oreccia quante mappe a sto gioco? 6 solo una? no biologica ne abbiamo fatte almeno 4 sono 5 mi pare sono da Marta e hanno la chiave sua hanno chiuso la porta ragazzi arrivo ho le chiavi di questa città guarda Mary che cammina sui sentieri più oscuri mi sono incastrato ok allora intanto io voglio prendere A e prendiamoci ragazzi che violenza superman punch ahiaia chi se ne frega ah è là allora dobbiamo andare proprio in faccia a chi ci ha lanciato le freccine ragazzi dietro c'è il sacerdozio aiuto un scema ok adesso la chiesa dovrebbe essere da queste parti l'ho preso la chiave è qua dietro prendilo gli laser eh ma i più veloci di me che lui ha l'arma gigante sono un assassino vabbè ah è il coso il come si chiama esplodete ahia ahia cappare cos'è il senso cos'è il senso cosa c'ho la forza che traballa lì poi ok non è andato eh niente è questo non uscito ma questo è grosso o lei comunque dopo guardiamo un po' di giochi un po' di giochi su steam guardiamo ah ragazzi siamo stati uccisi da pietro bot qui ahia ahia arrivo già lui vieni da me vieni da me eh sì questo deve essere sta scritta da davanti ai miei occhi di merda andiamo alla camera blindata eh sì allora camera blindata oh kit è morto c'è qua nostradamus madonna che posso anche curvare in salto con ok sono arrivata la camera blindata qua nostro siamo da gialluigi sparano mi sono perso moro io seguivo te oh pollon siamo nelle segrete ora non si può più uscire siamo nelle siamo nelle sagre arrivo il sacro cuore e dove siamo al villaggio moro se ti devi caricare l'ulti o se dovete caricare l'ulti portate voi lo scrigno ma non ho capito neanche a cosa serve la mia ulti non cambio la carico io Gianluca dammi allora tieni voi menategli ma è veramente lenta quest'ulti ok lo devo portare al villaggio sommerso ok c'è uno qua eh giù di qua e uno laggiù prendo A intanto ci conviene portarlo il più vicino possibile al nostro campo eh quindi cos'è rovine oh è questo vado alle rovine tenendo di sotto vieni qua Marco vieni qua in realtà il più vicino dovrebbe essere sì rovine eccolo guardalo no che cazzo pinghi qua uno sulla strada non c'è per scendere cadendo mortalmente no stanno tirando cose sì faccio zigulin zigulin voglio vedere se la tua mamma non ha tanti mariti ci sto ah scappi eh villiaco sei solo un villiaco ti posso spingere ma arriva un disgraziato Gianluca è vero eccolo qua lo butto per terra e ti do una magno ma non freccia vai impellille guarda che rimane intangibile ma io mi sparo oh la smette di pararsi sto tra un po' io non ho più frecce ragazzi strano ed erano intangibili quindi non potevo colpirmi ma lui mi vede nei cespugli se sto accovacciato se non ti avevi se prima no ok c'è uno dietro che tira le frecce ma no c'ho una freccia freusta non c'è da curarsi no ho bisogno di una mano ah il villaggere tutto nudo l'ho stordito ragazzi scappo sono stordito anch'io però aiutatemi mi ha ucciso lo stesso ma non serve a niente sta roba non serve a nulla come si chiama l'emico quello grosso loro ah no John Travore non era un bot vabbè ma lui non li stordisci come no li fai vedere un po' no gli faccio vedere tutto giallo lui va in seguito ma ha colpito lo stesso l'hanno preso sono tutti lì di aspetto ragazzi moro sono qua con le mie frecce posso scavalitare ah mi ha già colpito ma non funzionano ragazzi non funziona ma perché occhio moro che arriva io mi spacco ma ma come e ce n'è uno lì in fondo si si lo stanno attaccando andando nei rovine si vabbè adesso oh non ho neanche le frecce qui io come devo giocare si può giocare non si muovo con la mia classe dai mi hanno aggrato a me che le sei tu ma vabbè ma si ma perché l'fv è diventato improvvisamente piccolo qualche altra freccia no è niente lo sceriffo ha chiuso la porta ok questo è morto ha chiamato sceriffo non ci credo 3 3 mo piazzar ma noi non possiamo passare ora eh no io questo gioco non lo sopporto va bene ah no di qua si può passare sono morto però ci hanno 6 persone adesso una frase ricorrente ma c'è uno sceriffo qua davanti alla porta che guarda sembra guardare dubbra la frenesia si oh fate pochi simpatici in chat comunque che noi ci proviamo a portarvi questi giochi scosparsi di feci eh senza di noi voi avreste comprato questo gioco ho speso dei soldi e detto bella ragazza l'ho ucciso no ho trovato la mia postazione sto qua sopra ho le frecce infinite e li uccido tutti ma non ci credo neanche beh uno l'ho già ucciso questa caduta squizzata l'ho ucciso gianluca bravissimo oh no gianluca ma non hai il martello gianluca come lo do il martello ma io c'è lui di vita solo perri ti faccio hai capito gradino ho colpito ho tolto tutta la vita bravo ho finito le frecce basta neanche da qui che ce l'ho infinito ho finito le frecce non ce la faccio più sono stanco ragazzi sono finite anche qui non sono infinite allora è una bugia ma loro dove cazzo responano che arrivano subito è lì vicino è per questo che ah ti ho parato la freccia scemo aia mi hanno ucciso però a tua sorella disgrazia no no il pagamento costa 80 euro costa 30 40 costa 39 costava o 29,99 o 39,99 o 29,99 ma questo stronzo ma se è piazzato sta camperando davanti il cancieddu ma niente questo non si può disgraziare e vabbè è possibile arrivarci gli enemy sono extrati ah dopo un po' respawnano le frecce qui ma ne sono tutti qui ma questo non era gli hazard ma mi hanno ucciso appena sono uscito fuori basta ma sta mi sta guardando solo a me questo qui appena esco dal muro sono morto con una freccia ma no sono andato due volte sono andato quindi ha infinite le frecce scusa eh ma perché c'avrà lì una situazione per rifornirsi a parte il fatto che devo andare di lì per forza perché c'è il tizio davanti alla porta cosa? chi mi ha fatto cadere? non ho capito sono caduto vabbè io voglio spanarti poi com'è che sono professionisti questi avevano tre il danno da caduta c'è solo ogni tanto si dipende il danno da caduta ho già perso tutta la vita uno l'ho ucciso madonna ma mi hanno trammortito male tra tre tre ma quanti steppini hanno fatto già ahia e quattro sono lievito io faccio quello che voglio e quindi rosico esatto oh ma poi posso fare una scavalcatura eh ma ragazzi ma c'è gente anche al 90 mica solo 46 hanno vinto c'è veramente solo ogni tanto meno male ho finito sto supplizio perché l'abbiamo portato in quel punto che a quanto pare era proprio di fianco al loro spawn base eh sì le spawn se l'hanno portato lì è molto attento sono lievito due secondi ci metto per tenerti giù allora io vorrei un disinstallazione zero come zero che abbiamo preso la chiave aperto la pasta la pista ma zero zero mi ha dato come zero ma io c'ho lo schermo nero ancora anche prima ho dato zero io lo schermo nero com'è a te proprio neanche ti ha dato i no c'ho lo schermo nero io sono adesso caricamento sei stato disconnesso bene via disinstalla disinstalla eh sì vai alt f4 anche io c'ho lo schermo nero adesso ma ti sconnetterà vabbè facciamo questo io lo disinstallo ragazzi con tutto il rispetto per chi si è impegnato per fare questo gioco ma io non posso apriamo posso sopportare altrimenti libreria risparmiamo questi 10 giga per qualcos'altro disinstalla allora e voilà va bene No, dobbiamo cercare una serie da parlare di mezzogiorno Marco, Gianluca è un attimo impegnante Se volete sapere è mezzogiorno Volevo capire se c'era una Nella mia lista desideri che ormai conta 150 titoli No, 150 no, 100 tutti Sono 100 precisi A vero, sicuro fossero più di 12 rintocchi Ma come fai a fare la musichetta a mezzogiorno Un po' rilassare il suono della campana Guarda, suonano ogni ora ogni mezz'ora Se l'ho ancora installato forse Allora, io la mia lista desideri, vediamo un po' Io ce l'ho piena di roba Bella, media e brutta Negozio, due negozio moro Cosa desideri? Cosa desideri? Cosa desideri? E c'ho ancora letto qua, Marco Anch'io, non ho mai tolto E ha le recensioni sempre più negative Ogni volta che passa Però sono giochi tutti Sword Art Online Fatal Bullet, via serie Sono tutti giochi circa single player Paio di giorni Quelli che ho io Everspace MMO, però, vediamo Everspace Mi ricordo più Nella mia lista desideri è solo un gioco Mi ricordo il titolo Potion Craft Alchemist Simulator Super Bowl l'avevo già fatto Super Bowl sì, l'abbiamo fatto tempo fa Quando ero proprio in alpha ancora Questo ragazzi lo devo fare Faccio una mattina Una di ste mattina lo faccio Che cosa? Wanted raccoon Magica l'avevano fatto da gatto Sì L'avete fatto voi Però mi sa da gatto Sì Sono tutti giochi che devono uscire praticamente C'è Icarus Che era quello che avevamo visto Che era intrigante Io volevo fare stabs dei zombie Ma deve andare in sconto Allora, fatemi aprire anche Ah, Sub Rosa era quello che avevamo fatto vedere al Mica al coso lì della Della Devolver Quello con gli omini di gomma C'era la macchina Con quelli là che sparavano Lo so, è generica come cosa Ma non so come altro dirvelo Non c'era altro Andiamo a vedere anche un attimo su Watson's team Cosa è uscito oggi Grazie gatto per il ride Stiamo controllando che giochi fare Perché Hood l'abbiamo disinstallato Stiamo controllando in realtà i giochi Parti Animals è proprio sfarito completamente Parti Animals boh Birra per tutti ma io non la bevo Parti Animals non c'era quello che abbiamo visto con gli animali Sì, però Ma era divertentissimo C'era la data di uscita C'è un gioco dove devi fare il calligrafo giapponese Che storia Bello Devi scrivere C'era sto gioco che avevo visto io Che si chiama BeCastled Che adesso è sconto E praticamente Ho mai disinstallato perché è una merda Praticamente devi farti il tuo castello La tua fortezza Il tuo coso medievale E devi difenderlo da questi attacchi che continuano ad arrivare Ed è, sembra carino Magari anche il live da vedere Magari quello lì ci penso Lo vado a comprare Eh, sembra carino sì BeCastle Infatti ho detto boh Magari gli do un'opportunità Costa 10 euro Non costa neanche così tanto E ti devi organizzare il tuo castello E... Eh sì Ricky, è molto... Sembra interessante Quasi una di queste mattine lo faccio Che paura la signora giapponese E' arrivata Fammi sentire Grazie Ciscone Grazie Ciscone Grazie mille E cazzo anche a Boscos World Senate E' carino ma ripetitivo Beh, ci posso credere Bellissimo Questo SuperTotally Ultimate Dad Showdown La dad intendi proprio la... Sì La dad, ok Cazzo, sembra... È fantastico questo Amici, ma voi ve lo ricordate Carnival Hunt? Ma guardate questo qui che ho detto Ma che si chiama? Che si chiama? SuperTotally Ultimate Dad Showdown Ah, è quanto SuperTotally Ultimate Dad Showdown E' gratis tra l'altro E' stacoria Perchiamolo subito, proviamo Vai Sarà 10 Mb Ma che cos'è sta pocheria? Che è 10 Mb Ma sei esagerato? Ah, 10 Mb Ah? Un giga e 42, vai Lo sto scaricando No, 296 Mb Scusami Sei matto Lo sto scaricando Ma che gioco è? Ma sono dei Ticotacos Con i baffi Ok, io ho finito Questo è il Goti Beh, meglio di Wood Io adesso l'ango, ragazzi Vediamo se esiste su... Recuperatevi Red Card Ma non credo Red Card Total Infatti non c'è Come si metteva il gioco Se hanno un gioco che non esiste? Game più demos Scusate se è largo per un attimo eh Però sicuramente ne varrà la pena, immagino Proprio Non lo conosco, ragazzi Come si metteva il gioco Ah, il gioco è stato sviluppato da una piccola squadra di studenti Della Università di Utah E che... Attenzione Eh, guardalo Ma come? Ma il GTFO l'abbiamo più fatto, ragazzi Dobbiamo farlo una di sei mattino Non c'è... non c'è il multiplayer No, c'è scritto We recommend using the controller When playing multiplayer Only one person can play the game using mouse and keyboard Che storia Perché è locale Sì Allora lo provo solo io Ah no, aspetta 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 No The tutorial selection for instruction on how to play To invite your friends to play the game No, quindi si può Allora che cacchio di... Il remote play può darsi Che cosa facciamo? Lo proviamo? Proviamo Play Io l'ho già scaricà Pressing button to join Proviamo con remote play Molto meno defecatori di Hood Cazzo Roberto Calvos No, Hood non... Ragazzi, lasciate perdere Oh my god Stiamo messo in 640x480 al very low Così pesante Ci sono io, eh, nel menù Bellissimo tra l'altro Complimenti Ma che bel... Oddio Luca, sei attento a cosa dici No, no, nel senso che c'è la sensibilità altissima Ecco, mi sono un prosciutto, ragazzi Tra l'altro raccomandavo il controller, eh, quindi... Ma guarda Col mouse se lo muovi appena appena... Non voglio fare il controller Puoi invitare da Steam, magari E infatti... No, non perdete il controller Perché vi attiva il multiplayer locale Ah, ok, così Io sono dentro il gioco Suggerimento Puoi modificare il pulsante che apre l'overlay del controller nelle impostazioni... Cazzo amnone Aia! Che male, terribile Cazzo amnone Vediamo se regge Moro, che rumore, aia! Oddio, cos'è? No, non si può fare, ragazzi Non si può fare No, si parte Non si parte Ma sono tornato in single player appena mi sono lamentato, ragazzi Non si può tambare? Quante finestre del gioco c'ho? E' andato a zero il bitrate su OBS quando... Manca a me si è fermato tutto E' fermato tutto Allora, ragazzi Gioco da solo Vai E' fanno vedere tu Tanto quella è la sensibilità che usa Marco di solito per... Sul mouse E' eccessiva addirittura per me E' incredibile Sì Però non penso che... Sia tanto meglio Tanto cambi Lino, che dici? Non ce l'ho a CS2, mi spiace Dai, scaricatelo Siamo una competitive Lino, tempo fa che aveva detto Quando vuoi giochiamo ad Apex Ma si gioca ancora ad Apex? Gioca più ad Apex No, quando vuoi Io gioco ad Apex Non sto capendo Cosa devo fare? Cosa c'è di difficile da fare qui? Eh, devi schivare... Beh, bravo Moro hai vinto, penso Se no, se volete c'è sempre Totally Accurate Battlegrounds, ragazzi E' vero possiamo giocare in quattro Se volete un'oretta possiamo giocare a quello No, era carino Anche Gianluca, lo scarica Tanto la connessione è meglio di tutti noi messi assieme Vai, scaricati il Totally Accurate Battlegrounds Ma io non so se ce l'ho ancora Allora, negozi Vabbè, lo riscarico pure Era un giga Non era tanto, si Adesso guardo Totally Accurate Battlegrounds No Il Totally Accurate Battlegrounds Aspettate che mi son preso bene qui, eh Ah, eccolo qua Ho provato Cos'è questo Going Under del Team 17? Sembra carino Non so cosa bisogna fare, però sembra carino visivamente Pesa 3 giga Caricati però È gelino quando vuoi Eh, 780 mega Eh, vedi Troviamo sessualmente e mi sono spavettato Ok, ho finito Oh, sono caduto Arrivo, eh Eh, ho finito qui E vai Player 1 has finished Ma gli altri non c'erano Ah, quindi è finito lì il gioco Devi spingere il carrellino Eh, ho fatto una gara Ho fatto Ma perché la gente Ma cosa spinge la gente a metterlo sullo shop? Ma questo era per Era un lavoro di qualche studente Era un progetto Progetto studentesco Com'è che si chiama? E non c'era vergogna Hanno messo Wood Totalea Pure 8 Battleground C'è un aggiornamento A giorni Da 200 giga Che sono più di tutto il gioco Penso sì Perché non c'ho mai giocato a Totalea Ce l'ho visto ma non Mai giocato Madonna ma che peso che gli arriva alla connessione Cioè prima una volta scaricavo tranquillamente Mentre ero in live Oh, vabbè Cosa è successo Moro? Sei cambiato? Eh, non so Non più la stessa First is Va bene Oh, e si accende questo gioco E' aperto sull'altro schermo Hanno aggiunto Impossibile avviare, premere sì per avviare Cosa? Ok Hanno aggiunto i colori a quanto pare Ma lo cattura? L'avevo fatto io la trovo Chi l'aveva fatto Totale Accurate Battleground Un'altra volta? Oh, vabbè Eccolo Allora fammi un attimo Abbassare l'audio Forse l'avevo fatto io Forse l'avevo fatto io Ma perché mi devo rivestire di nuovo adesso? Che è sto? Eeeh Interact Reload Reading Rain Shop Va bene Non ho capito Warstig Alla fine è veramente il come Beh Eh? Full screen on Bon Ho capito la domanda Warstig Ok Quanti capelli? Ma è vero, sono nudo, non sono più il mio Ma ci si Drip Quanti le hanno Drip Oh Ah è vero Ma sono un cetriolo ragazzi Bellissimo E Gandalf c'è Una banana Io sono un cetriolo, voglio essere un cetriolo Io faccio Pantaloni così Le scarpine le voglio così Faccio Gandalf Ah io non c'ho niente Sono pronto io ragazzi quando volete Faccio full Gandalf No Full Gandalf Eeeh Fermità ed è bello Sono Mr. Pickles Troppo serio Mi serve... Eeeh come ci si invitava? Mi serve Da Steam No invite c'è lì Siamo solo noi Tanti Carini che siamo eh Ho accettato Vedete anche le scarpe poi siamo a posto Eeeh Eccoci Ma scusa Ma col cetriolo così ti vedono un botto e ti sparano tutto Eh moro Sarà una challenge in più Ah siamo partiti Ma nell'acqua Che ne cosa succede? Eeeh Sono sotto la mappa Eccoci Sono io Mr. Pickles Ma c'è... C'è una nebbia o non sembra... Come si parlava? Sembra che ci sia una nebbia O la G Ma più hype non lo so No la G era per mettere la musica... Più in hype Da game star russo Non sto capendo perchè tutti questi giochi hanno una sensibilità altissima Qua mi sa che l'ho dovuto abbassare anche io l'altra volta sai? Era bella alta qui Eeeh Ciscone ma probabilmente adesso abbassiamo i punti eh Sì verrà giugno e abbassare Per sicurezza Oh così posso modificare più e molte Bellissimi parte il... La Russia Andiamo? Chaos Ah dai perchè la canzone è russa così? Siete pronti? Ma Chaos Ma Chaos Punta in alto Gianluca e sparra Ok Com'è che si faceva a moro quel lavoro lì? G Gianluca premi G Sì 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 che fai Fabusca nevi frosh fras Non so cosa... Udraga Ma è pieno di gente Io c'ho un pompa ragazzo No c'hanno moto Ma te Giazza come sei arrivato laggiù? Ah stavo a puntare in alto Ho una corona Sono arrivato Vabbè vi raggiungo Metto qualcosa sul senatore Ragazzi io ho un pompa Anche io ho un pompa Ma perchè ho messo la tuta dell'Adidas che ho la musica... Io c'ho un Thompson Ma l'ho preso ma come faccio a usarlo? È tutto molle Ah ok Ma era sul 2 Dov'è il mitra? Ce l'ho ma non riesco a metterlo Eh anch'io ho fatto pratica Devi premere tipo 2 È tutto pepo rush Ma la sto premendo 2 ma... Bene oh! Non funziona il mitra niente Posso usare solo il troppo Ho il barret Ragazzi ci penso io Vengo a prendere Chiazza l'ho rischiato di buttarti giù per sempre Oh! Oh no! Non c'è freno a mano ragazzi! Non posso entrare? Non mi fa entrare E niente Ok Sei fatta? Si Ah sei tutto storto Ma io non posso usare il mitra ragazzi Perchè? Moro scendi giù Ma c'è da buttare Che scendi giù Seloce Allora la Non c'è niente Si invece c'è vedi Andiamo dall'altra parte che c'è più roba dai Uh! C'è una pistola Guardiamolo qua Moro Andiamo via Oh allora Come si fa? Eh! Come eh! Qua c'è un'arma C'è un carro Ma che me? Uh! Io la voglio A me non funziona Tanto devo cambiarla pure io Non posso entrare nel veicolo E non mi entra Ah! Ma è da tre quindi No ecco 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 Mamma ora mi hai rubato le munizioni del car Si Maledetto Non so come dartle Neanch'io so come prenderle Con finile qua Una bici Don Matteo Piripipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipi Ah! Non scappa Ehm E niente Non Ma perché? Cioè andiamo in un posto dove c'è più roba da prendere Siamo fermati Eh ma questa era perché Era di percorso questa Ah beh andiamo qua ai collinos Certo Cerchiamo di capire come Ok Sono effettivamente pieno di gente qui Ma stanno sparando? Stanno sparando In cima alla collina Ah si eccole lì Wow Come si riprendono le armi? Sono morto ragazzi Mi hanno spaccato la fazza Bravo Gianluca l'hai già masterato No Devo smettere di cantare la russa La safe Che difficile No è un fuoco non è la safe Turun 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 Ma che vuole il pirata qui con sto coso lungo? Ah l'ho colpito scemo Ma guarda ragazzi guarda Chi è questo qua Gianluca? Ma io Quanto molle Sei morto Marco? Sono morto Marco Ehm Arrivo Sul letto Voglio rispawnare Odio Ma sei tutto pippo crazy Pippo love Ma frat Beh 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 Livello 1 completato Però possiamo respawnare Ah è vero che possiamo respawnare Io sono morto Ho fatto il livello 1 e poi sono andato a schiantare Ciao Boot Ah Non lo sapevo Prima che si chiuda il muro davanti Io mi sono schiantato contro il muro Apposta Aia Sei tutto pippo don't understand sei Ma com'è you dead? Ma scusa Ho fatto il primo livello andrei Boot mi deve aiutare a comprare una chitarra comunque Eh Non sei eh Corso fragile Dove sto finendo ragazzi? Ah è sorrinato comunque Io invece sono spawnato a base Io non ho capito ragazzi Io non so dove sono Io non so dove sono Dieter ma non sto vedendo niente Io sono a terra adesso Anzi è bloccato in un menu al 65% Stiamo in mezzo all'acqua Tu sei Noi sono con morto Ah anche Mark ok Quindi l'unico è Gianluca che manca Dobbiamo Dobbiamo tirarlo su È già morto No ho preso un trampolino e mi ha risparato in aria Dobbiamo tirarlo su eh Ho trovato il FAMAS Mark è lontanissimo C'ha più armi Io ho sbagliato Di qualsiasi altro gioco Abbiamo veramente tantissime C'è c'è il moschetto Amici io purtroppo mi son lasciato andare e sono lontanissimo Non posso neanche aprire le opzioni C'è la macchina qua Aspè ora si può resuscitare qua sopra Cosa bisognava fare per resuscitare? Boh Devi avere delle kill Allora Posso? Cosa ho preso? Un libro delle magie Posso fare le magie ragazzi Curano Posso fare le magie Servono due punti servono per resuscitare Andiamo da Marko va Quante armi sono tutte in questa casa Quanto male Amici io ho il piccolo in testa Io se alzo la testa vedo la ricurvatura ragazzi Del piccolo Del piccolo Sto tutto pippo crazy voglio andare a sparare L'azzo sta arrivando con un carro armato a giudicare da rumore L'azzo mi ha ucciso No no sono per cadere in acqua Oh oh la macchina E' il fuoco amico eh No te lo devo a resuscitare Piano 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 Ma tanto ci servono le kill per resuscitarlo Dove va quello la da solo Scusa Ma scusa perché sono da solo? Scusa Ma scusa eravate dentro Ma ho detto cura E dovevo curare Ma puoi volarti in macchina? Noo era la polla Polla! Come cazzo si entra? Oh, vai! Qui non vedo niente con questa cosa di Mark davanti Eh, ragazzi, tanto che problema c'è? Dai, dai, due secondi Dobbiamo trovare gente Prendi le balle, prendi le balle Ah, tra l'altro è stata safe Gianluca Che sono dei muri che si avvicinano Stanno sparando un bot, ragazzi Dei muri che poi cadono a terra e si aprono Stanno sparando un sacco, lo prendo Bestia, come spara Io sono sceso, eh, e sono morto Mi avete fatto bene? Moro, io non c'ho niente, scappo via Che fa, Moro? Ma è una merda Non si capisce come spara Ma io non ho le armi, come mi difendo, ragazzi? Mi spaccano È così duro Ok, uno l'ho ucciso Ucciso Bartolo Eh, mi hanno ucciso Ho trovato una pistola, ragazzi, siamo a cavallo Buono, possiamo risuscitare Gianluca, se è sopra via Non c'è vero, non è vero La pistola non va, ragazzi Posso fare le magie? La Luger, sono morto Ma perché non mi fa sparare? Ma che succede? Ma quanti erano questi? Ma scusa, è la seconda volta che prendo l'arma, ma non la mette in mano Io come sparo? È il meme di Kermit Non si capisce Non funzionava Premi uno e rimane grigia E rimani coi pugni, vabbè Uguale anche a me Sì, c'era un po' di rinculo in quell'arma Andava solo il pompa Che non è servito a niente perché mi ha shottato prima Quindi niente La K invece era tanta roba La K l'altra volta è man of the match Anche la balestra, fortissima No, ma ti diverti ma non giochi effettivamente Ma c'è un cazzo Com'è? Sono al cesso, c'è un pisello Dentro il cesso Ma vedo la mia testa ragazzi, è normale questa cosa? Non credo Vedo i miei occhi, la mia mandibola Dipende da come sei messo E sto correndo Non ci sollearmi per provarle Come stai cadendo? A me sono waiting for player nella lobby Anche io? No, noi siamo già dentro Io sto correndo io Eh no, noi siamo in waiting for player Si, eh si Ah ok Ho detto sto correndo, mica cadendo io Ah Ragazzi che pugni tiro, sono Michael Jackson E' famoso per tirare i pugni Fammi mettere un po' di musica Tripalovski Tripalovski Oh adesso sono tutto qua Ehm Sono tutto tipo transit Andiamo a L'area 51 che è 64 qui però Va bene Ok Epsilon cos'è? Che è? Ah Y era per parlare Dove andiamo? Scusa là L'area 64 E allora vogliate Dobbiamo aspettare No, ma chi è che è partito già? Io sono partito Ma sei matto Ragazzi ma andate tranquilli Ma arrivi anche a metà Ma poi sei partito tutto sbagliato anche di direzione Ho mirato in altissimo ho mirato Eh si ma completamente sbagliato dalla direzione Ma non è vero, sono preciso Cazzo Cioè non ci arriviamo neanche noi No Ma neanche un pelo proprio eh Ma l'area 64 vedrai Mi sono schientato in una casa Sì infatti vado nella città qui e via 1700 km Ma c'è uno alla chiesa Due alla chiesa Ragazzi ho una corona che serviva Non mi ricordo Sono power up Ho una moto Quella serve per andare Marco ti invento Il container ci saranno delle armi Posso salire la scala E io sono con la moto Ma solo Keep Medici sto trovando No c'è uno Sono in due Uh ci vanno qua da me Mi stanno pigliando puni Ho finito i colpi Ragazzi ho trovato solo munizioni Non hanno armi tanto Cosa che mi ha rubato la macchina? E ho voglia Se hai duecento metri Eh beh ci arriviamo Un nuovo verso l'alto E ci arriviamo Ahia Il mio problema è che non ho armi E un altro che mi ha rubato la macchina Ho pochissima vita Ho quattro di vita La K ce l'ho L'Ak 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 ce l'ho Ho una K ci penso io ragazzi Sto arrivando Forse Ho finito le munizioni No qua c'è uno Fastidio Ok li ho uccisi Ok andatevi su Apri il schiatto Bella Ok Mi sono arrivato con la mia motoretta Oh cacchio Ho sentito una botta Ho sentito Mi sono schiantato con un sasso Mi è ribattata la macchina Io la moto l'ho lasciata lì eh C'è un'arma lì da qualche parte Può essere Sono due minigun qui con le bandiere dell'America se volete Io ne voglio una Io voglio l'altra Ma se primo due non funziona Ma infatti non ho capito in che slot te li metti E tre E uno e tre Da me Si dipende Sono uno due tre gli slot comunque Eh ma Ma non ha senso però scusami Capito ma ti stai a fare le domande ma veramente Perché no scusami Perché sono due merda eh A parte il fatto che Si scarica la minigun Io non trovo un'arma Minchia più bello di hood Hai paragonato La merda con la merda Non è che Beh questa non è merda Dai E questo è merda di proposito Perlomeno È vero Medikit Ma ci sono solo medikit ci sono È davvero best Beh servono i medikit dove sono? Qua c'è un'arma Ho trovato un'arma Dove sono i medikit mi servono? Ho presi tutti Gli ho presi Ma bugia mi dice che ho 40 munizioni della capa Ma non è vero Come? Ho 30 Qui 90 Ho trovato un lanciamissili Che storia Grazie peccolo al ragù grazie Buona la peccolo al ragù Non lo so in realtà eh però c'è il ragù quindi è buono Forza Era due buono Ma eh sento la safe Eh si ci sta passando sopra il muro in campo Ah ma siamo soppi Andiamo verso Gianluca non abbiamo più le tue cose vero no? Che cosa? La macchina Corrette Nooo ci mi son ribaltato con la macchina Verso sud rotolando Ti ri 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 ti ri ti 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 Guarda devi curarti però Entremo verso sud Quando si può fare Cos'è questo? Penda Ah dobbiamo andarcene Siamo Vabbè no in realtà è qua No è morto Chronic Masturbator Nooo Aiuto Ho ucciso qualcuno No anche il peccolo al ragù può essere Ho trovato un moschetto Per la tua fantasia Non ha molto senso però si può fare Un fucile a canne molli A canna ruozzi Ma che io guardo in alto mi vedo il cappello del cetriolo Non vedo bene Però è bello che si vede Ok siamo dentro la safe Non andrebbero cadere Non sono molto dalla Solo per pc questo gioco penso di si Eccoli che cadono Che storia Non so anche se Ma senti questo qua Grazie Budino al cioccolato Grazie Budino Ho detto male Scusami 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 Sai che ci sono i container Lì troviamo roba sicuro Munizioni ma senza armi Canna ruozzi o il pomo da dama? Si Da dama? Da dama? Non so Ho trovato una orella Un po' tipo dense sono Dobbiamo andare un botto in giù Una chiave... No un revolver Bello Qua c'è un'arma c'è il Thompson Qua se volete c'è una balestra ragazzi C'è un aurelio E' meglio Io la cambio Voglio io la balestra No Non volevo far questo No mi fa togliere la prima Allora non voglio E' perchè c'hai due slot per le armi primarie E il terzo slot per la... Ma questo che cos'è? Per una Ah Non mi fa switchare neanche l'altra E' P90 Se volete Ragazzi ma chi è il casotto E' la safe? Eh si Corretta E' la safe Aiuto Come si passa? Sono un'ansia sti cosi Sparano da sinistra Sta anche piovendo Io voglio un mezzo di trasporto Ripalovski Via 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 Non ci serve Non ci serve Ora abbiamo gente Mi sparano Non è vero non ce l'hanno con me però Stanno sparando tra di loro Andiamo Penso di sì Penso di sì Penso di sì Anche di più di rasti su Andiamo dentro queste rocce Mi spai 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 Nooo Mi hanno sparato Nooo Mi hanno sparato Aspettami Bestia sono andati via Vi tiro su Eh io sto per morire Nooo Eh faccio il percorso automobilistico Sopravvivi che così riusciamo a rinascere No non mi fa fare il percorso Posso tirarmi su tutti se trovo una statua My god E io potrei non guardare Perché non mi fa aspettare scusate? Anche a me non mi vedo Sì sto speccando l'ieda Che suggesting Ah ecco con le freccine Gianluca Ah con Cosa sto guardando Corri Corri scappa 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 Ah No non c'ho le munizioni Saippa scappa scappa Non c'ho più le munizioni Di nulla 5,30 colpi dell'hump Un palump C'è anche la safe C'è la bici Vai Don Matteo Ora che fai marcia Fai manovra qui Ememe In salita hai fatto Punizioni Ok non ti stanno più Va a vedere se c'è qualche Altarino No non credo sa dentro C'è uno che sta sparando dei laser Gli altarini non ce ne sono Non so se si vedeva Devo curarmi C'è uno lì sulle scale Non posso Devo curarmi Dai mi stavo per finire di curare un pelino così Maledetto me Sembra bello competitivo Questo gioco Non è male E' stato un bel lato Un bel fight Una volta che capisci come non vomitare quando spari E' fatta Waiting for players Accetto Non tre paloschi Finale C'è paloschi C'è paloschi C'è paloschi Queste case Almeno mi puoi mettere delle armi a caso Per divertirmi nella lobby Scusami I palazzi I palazzi vuoti Tutto dell'adidas Cos'è si può essere Che spavento C'è uno che mi stava urlando Nell'orecchio Oh no Tutto tu Allora Qua andiamo Ve lo dico io Si vecchia Per quello Quindi Ma quindi Gli Ezzaro dovrebbe avere qualcosa del signore degli anelli Allora E' il castello di sabbia Ma perché è sempre così lontano Non ci arriviamo Ma non è lontano Ci arrivi Dove? Deve aspettare Ci arrivi Acqua Mi ha preso benissimo ragazzi Ora possiamo andare Peum C'è la piramide Di Giozza Di Giozza? Di Giozza E' quella con i ravioli C'è un lancia laser Credo Lancia laser Ma c'è un tizio No io ho trovato C'è un tizio C'era Bob Marley Oh my god Non canne Carica questa Ah perché sono trip Non ho le munizioni Ma io ho la pistola da gangsta Ragazzi Di traverso E' perché stai facendo beatbox Si Ci sono Non si può sparare Con questi mestieri Ok mi fa rispondere C'è lo scarro Sono morto ragazzi Ma io non L'ho Cosa è? Entro Volo Anch'io Sto andando Sto andando sopra In aria Ma perché sono nudo? Ho perso il Pickles Ma che succede? Ma non muore Amici tirate mi su Ma non mi era morto Oh eh oh eh Dove trovar munizioni Mi hanno sparato con i laser Che esplodono Io l'ho triturato Ma non gli ho fatto niente Ok Ma prima c'era proprio Tripalowski Ma l'hanno dovuto togliere Per il copyright Mi spara Già finito i colpi Questo ormai Siamo un master Qui Livello 2 Complete Voglio un gioco Solo di questo Io Sto arrivando dal cielo Amici Aia No mi sono spiattellato Contro il miuro io Quindi Spawnerò con le Maledizioni Io ho fatto Livello 1 e livello 2 Poi sono morto Ho cercato mezz'ora Di uccidere un morso Un morso io Morso Oh no C'ho la maledizione Del sempre sparare C'ho la maledizione Del seme io Ma dove cazzo sono io? Eh sì ma Mi ha spawnato In una roba Completamente diversa A me Sì se no Di nuovo qua No ragazzi C'è gente Del castello di sabbia Non ci andate Qua c'è il coso però Eh ma Come fai Moro ti vengo a prendere E la c'è Nonostanto Non carico l'arma Ce la carico Ma mi è esplosa la macchina Però mi sono avvicinato Sono a 400 metri da moro C'è una bicicletta Ottima Non ho le armi Per carità Però la bicicletta Pronti Hai capito Ciper Hai capito che stasera C'è GeoGuessr Stasera c'è la serie Che storia Che storia Sono tutto Pippo Bonner Io Ma Ha fatto Di parlare strano Ah Pippo Bonner Questi attori russi Che conosci solo tu Ne scappo via C'era più Dick Pie Che ha ucciso Shroud C'era scritto Ma come Dick Pie Chi è Chi è C'è uno con la macchina Sono io Sono io Ma è pieno di cose Sono due bici Due moto E perché sei passato Marco Ti sto aspettando Vedo la tua faccia E dentro un cetriolo Ma sono ribaltati Amici No Un incidente grave Ragazzi No Un incidente gravissimo Ma che vuoi che sia Andiamo a prenderle moto 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 Che aperta La dea della gamba aperta Come dicevano Aldo Giovanni E anche Giacomo Mi pare Ma non si toglierà mai La maledizione Delle Della prima avionta Poi toglierla Ma si Però devo uccidere qualcuno E punti Ci vogliono E come fa È un'arma lunga Arma lunga Ma bellissimo Ho il dual wielding Ragazzi Mitra e Ho il mitra E la pistola Guardate che roba è figlia Però sparì con uno solo C'è uno È la mia occasione Ragazzi Per redingare Oh eh Oh eh Oh eh No ho già caricato Ora arrivo Ti salverò Ora tranzollo Ci penso io Qui Vai C'è un altro L'ho ucciso Te l'avevo detto Ci pensavo io Ma chi sei Ma sei tu questo Tranquillo Tranquillo Sto a posto Mi serve che muoiano Però Eh Come faccio a togliare le armi E non ho più Oh via via Ahia Mi si è solta Ho finito È lì fuori Lo vado a prendere Ma hai ucciso A finito Ho colpito Marco È tutto in bianco e nero Siamo fuori dalla sei L'abbiamo Ce l'ho ucciso Più di Più di Pi Eccolo Allora dobbiamo Devo curarmi B B nel senso di bro B certamente Devo curarmi B Sale certamente Sale certamente Ma non ho più niente Dobbiamo correre via Una moto Prendi una moto E dove cazzo la trovo io Dove ero io prima Non lo so dove eri tu prima Come no Ma hai visto che scappavo prima Dai Sale certamente Via 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 Io che armi ho Armi off tu La granita Non c'è nessuna moto Marco È pieno di bici Di moto Che dici La quella Forse è una Lascia Piripipi Piripipi Marco ma a me Si chiude il miuro Tra 5 secondi E per quello ci serve il mezzo Dai sono qua dietro Via Ho perso tutta la vita Ma che fai Ma sali però Non saliva Non saliva Non saliva K certamente Ah Ma io ho veramente Proprio Che bei ponti Mi dici come siamo messi con la mappa Eh si sta per chiudere la 6 Vai qui Moro Fa Ma non è vero Stanno ancora viaggiando Il 50% No dobbiamo lootare Non c'ho niente Ma ma all'orecchio Sentire questo rumore C'è uno qui Marco Ma non vedo Tutto bugà Ho finito le munizioni Però io tiro Allora dobbiamo trovare Un altare Quanto si stanno sparando Avevi passato L'altare era all'inizio Eh lo so ma Dovevamo Eccolo Eccoci Togliti la maledizione A posto Adesso gli altri Fine Non ci abbiamo più le Non ci abbiamo i più Sì Vabbè Adesso proviamo munizioni Amici andiamo Andiamo in quelle case là Marco Quella Vai Quella Potevo calmare Al mare Corri 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 Come Diego Alvarez Parecchiano un sacco eh Non ci sono più le tovaglie È entrato qui Marco Esco dalla finestra Non mi avrà mai visto Non ho munizioni Ma ero io Moro Ma non ti ho visto rosso O neri tu Sono rosso ma No rosso La sagoma rossa Sono ma Era lui davvero Era io Ma perchè ti vedo rosso Che cazzo di perco ho preso Non so più niente Io ragazzi Ma perchè mi dà le cose Senza le munizioni Una freccia Potevi darmela Eccolo è qua Marco C'ho l'ho l'h Amici Faro sta Anche lui Anche lui E' proprio tra l'altro Vole anche quello di Cod Che ti fa il quadratino rosso Lui lo sa perchè È morto è morto È morto è morto da solo Marco Occhio 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 Marco aspetta 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 un attimo Ma si è ucciso da solo questo Ah ma che tristezza ragazzi Marco mi tiri su Sto vorrendo Eh morto sta prendendo E' il braccio tutto storto Aia Eccoci Le munizioni mi servono per il pube Quelle gialle mi servono E' un botto adesso Marco dobbiamo andare via E che vuoi Andiamo Credo Da che parte Sì dobbiamo andare No provo l'oro Aspetta Provo a restare gli altri Siamo giusti in realtà Dove era per restare È pieno di gente Moro Marco curiamoci Vieni qui Vieni qui Io ce l'ho la vigna Arrivano eh Moro Wow wow Morto C'è uno laggiù No tu sta tutto tipo crazy Quello Uno è giù Mamma non vedo Quanto sono cieco Ma io vedo benissimo Dalla spedizione Dalla spedizione erano normale Sono un fenomeno Aspetta Da baraccone eh per carità Perché non c'è l'animazione del caricamento Ti ho uccisi tutti ragazzi C'è un fenomeno Eh resuscitateci Ah Eh non c'è l'altare Chi è che sta scagando Eh noi non possiamo Vedere l'altra Perché era dietro Sul medic kit Eh ce ne sarà uno dentro la safe magari Provo Eh adesso ci guardiamo Moro ho fatto una strage qui eh Bravo Marco C'è un munizioni Pippo solo C'è una freccia C'è una freccia Aspetta Non dobbiamo andare in safe Credo Corri moro Corri Solo acqua e sapone Solo acqua e sapone Il nove Là davanti Marco Saltella Anche da dietro Anche da dietro nel tetto Ahia tutta la vita No sono morto Ragazzi Ogni volta mi viene Pippo solo Deve uscire ogni tanto Bellissimo Dai Mi fa male il collo Mi fa male il collo Una signora di Napoli Il collo Mi fa male il collo Oh E' coso e' coso E' un bozzolino Come si chiama il nozzolino Sì E' quello lì che dice E' ya Stefano Ya Ya Stefano Io ho sempre questa immagine di lui al gabinetto Con i pantaloni calati che va Ya Stefano E cerca di Di tappare l'obiettivo Della telecamera Chissà come Si vive A fare una vita di imbarazzi Però Lui e' simpatico Adesso è davanti a un altro Per il suo ruolo Eh si Che Maurizio ha laurito ragazzi Sì Parla più Più Rauca Lei Lei è Rauca Così? No questo era Pippo Solo Sempre Titri con Pippo Che bello che si può fare il parkour Si può salire sui tetti Guarda che Sto gioco ha del potenziale enorme Comunque Ed è comunque anche giocato Tra l'altro Vabbè era free No ma infatti Noi l'abbiamo pagato Ricordiamo Mi sono ingestrato tutto C'è che bello che puoi passare dalle finestre Perché la fisica del personaggio E' tutta di merda E quindi si Ragazzi Si smolleggia tutto Mi è finito un occhio Al fantacalcio Nel secondo schermo Nel gruppo del fantacalcio E c'è un articolo di giornale Che ha messo Luke E il titolo è questo Dura analisi di Garlando Juve più sciolta che liquida Ma che titolo è? Che titolo è? Più sciolta che liquida Poi cosa vuol dire? Dicevamo che si giocava la gente No ma infatti Beh sta retratto Più sciolta che liquida Ma poi cosa vuol dire? Al di là del titolo Solo acqua e melone Comunque Melone Mamma moro Sta arrivando Ormai è quasi la stagione L'unica cosa bella dell'estate Crudo e melone Non mi piace Ma ragazzi Ma dai A me è melone Questo vuol dire Perché devo mangiare una cosa dolce E una cosa salata insieme Buonissimi Prima mangi una cosa Ma buonissimi Ma come? Comunque a me Mi dà troppo fastidio Ci sono anche i culi in spiaggia Margo C'è anche i culi Cioè Adesso ci vado Non vedo la spiaggia Da 18 anni L'estate è un sacco di roba Ma non c'è niente Che mi interessa L'estate c'è il condizionatore Fatta Cuno da guardare ce l'ho Da mangiare lo faccio sempre Ma uno si è buttato giù dall'acqua Ma io non c'è niente Muori Sono ancora nel menu L'autobus Io sono nel menu ancora Sono spaccati sulla spiaggia Con voi che correte Torniamo nel menu E ma non riusciamo a senzare un altro Ma si Iper Sono contento Non troppo Perché ti faccio spendere soldi Ma sono contento Che hai ascoltato Ma è qua Mark Io sono qua Vi vedo ancora nel menu Nel menu Ok Ah dice Failed Authentication Please try again Provo Riprovo Ok Io sono nell'acqua Ok Waiting for players Anche io sono nell'acqua Adesso sono sulla casa Il mago di Oz Riuscite Come siamo Pippo Static Sono nel menu Siete qua Siete tutti Acqua Acqua Fuoco Un pochino Ragazzi ma io non posso guardare in alto Io se guardo in alto Vedo i miei occhi Ma te la sei messa tu con la cagata Sì ma non pensavo fosse così Comprante Anche per me Dico Finché mi vedono mi sparano Vabbè for fun I am good I am good I am good Vabbè ma non guardare in alto Marco I am good I am good Ma mi da fastidio che se guardi in alto mi vedo la faccia Non ha senso Eh sì Ha rotto la tastiera Ha rotto Aspetta un secondo Cosa stai passacchendo? I tasti non rispondono più Stavo provando a saltare Eh sì Sulla tastiera Con i palmi delle mani No si era incastrata La barra spazzatrice A me stava proprio saltando sulla barra spazzatrice Ragazzi un po' Adesso stavo ripensando Mentre faccero questo discorso incredibile Cioè io ero ipato per hood Basta Marco Basta È incredibile questa cosa Devi farmi pensare Come la mente umana possa essere Cioè io Gianluca ci scrivevamo Sì Marco tu eri ipato per hood Solo perché c'era l'arco C'era Robin Hood No mi intrigava Mi intrigava Quella è la prima cosa che mi ha attirato ovviamente Perché dico ah che bello c'è l'arco Mi piace usare l'arco Poi c'era tutte le altre modalità Sembrava interessante Quali altre modalità ce n'è una? No bene La modalità sembrava interessante Il pvp che devi fare le robe stelte Ma ci sono anche le varie classi Io ci credevo Un po' anch'io Scusami Perché non avrei dovuto crederci Se vedi il trailer sembra un bel gioco Che sappiamo Guardate il trailer adesso che sapete com'è il gioco Ma sembrava bello ai tempi Che altro il combattimento non sembrava così da merda Come vedi che su internet ne parlano bene Ma in che senso Chi ne parla bene di hood Voglio i nomi e i cognomi Secondo me è bello mezz'oretta Ma non ci vivrei Boh non lo so Sto facendo tutta la mappa io Probabilmente un gioco sistemato Potrebbe anche essere I creatori Se fosse free to play però Ma le recensioni di qualche mese fa Qualche mese fa Nessuno ci ha giocato L'hanno visto E hanno detto bellissimo Eh hanno avuto l'impressione Avevano avuto noi Sembra carino Se voglio giocarlo Ma non è vero poi Quando lo giochi Voglio andare qui dentro Ma il problema sono tanti Lo sbilanciamento tra gli eroi Il fatto che Il fatto che sono già tutti a livello 90 Anche se il gioco è uscito oggi E c'era l'anteprima Comunque che In questo gioco Sono entrato nel cammino E sono uscito Le animazioni erano tutte dure Sono entrato nel comigno E sono uscito dal cammino In questo gioco Cioè diamo peso A ciò che ha peso Ma io sto facendo tutta la mappa Quanto ci vuole Dai dai Poi per startare una partita Ci impiegavi più tempo Che in questo Adesso andiamo Ve lo dico io Al Circle Town Vai c'è una porta Come? Circle Town Ok Posso buttare anche adesso Sì Promuto spazio Ho sbagliato Anch'io la prima Ho veduto No Moro c'è uno No era anche due No Sa che c'è comunque qualcuno Sì Sono nella casa della finestra Parano Oh ma non mi fottere tutto Ma solo munizioni Ma puoi darmi solo munizioni Una granata E niente Ho la pistola e il pompa A Kimbo Anch'io Uh eccolo qua Ma ragazzi io non ho le armi Eh no Mi sa che Aliezer non è andata bene In questo caso Morto Fernando Alone Ma come Fernando Alone Qua c'è uno Run or die Run or die One more die One more die Arrivo Aliezer Dalla balestra credo Run or die Ma chi è lei? L'ho ucciso a pugni Aia mi hanno ucciso No sono morta Come? Gianluca Chi mi ha ucciso? Era la musica di fight Mi aveva ucciso Gianluca Ma ha sparato da qua sotto Mi ha ucciso No 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 colpi Sparato da sotto Merda Io ho zero colpi Mi lancio una granetta Aiutami Forse non l'ha vista Sono morto Ma forse non l'ha vista la granata E t'avrà finisciuto Non esplode Dietro nessuna granata Ma che merda Ma dov'è? Oh tirami su Tira su Tira su Tira su Tira su Tira a me Eh siete in due Siete in due Siete in due Io non ho È arrivato un colpo Ma adesso L'iazer mi ha fottuto tutto Ma ho un colpo Ragazzi io ho zero colpi Oh è questo Mi ha ucciso Con un Come si fa Con un arco Con un arco Aia Sono caduto a bocca all'avanti Minchia che Forte lascia Ma mi aveva arrivato Come mi aveva arrivato Ma chi? You are killed by Io ti ho rinanimato No prima Dicevo Eh non so E ricolle nella cosa Eh abbiamo Dobbiamo fare il trichettone Anche se siamo a bordo di tutti E fare sparare lo stesso Dobbiamo fare il trichettone Superate Eh non so se ce la faccio Sì che ce la fai Sì che ce la fai No ho sbattuto dai Ok E ce l'ho fatta Ok livello 2 È già più difficile Non ce la faremo Ce la faremo No Io niente Io ho mellizzato Anche io Livello 2 No ho sbattuto Sull'uscita Del secondo livello Eh dove andiamo però Eh non lo so Curso a fronte No no Salterò l'infinito Andiamo Pippo solo Eh andiamo qua Ah dove Te l'ho pingato Io non vedo un cacchio Raga Sto arrivando Da moro Da morto Anche Aia Salto sempre amici Eh non c'ho colpe Colpe Non c'ho monizze Ma ho la cosa del lag Di laghi Mi torna indietro Sì No preferisco spararmi ragazzi Che fastidio Chi spara? Ma io non c'ho colpe di niente Oh c'è uno qua Oh prendi questo Tripaloski Aiaia Ho 20 colpi Della revolver ragazzi Non c'ho munizione Non c'è niente qua Sono morto Aia Vissi sotto Beh Che forte la spada Prima la spada E poi lascia Aia Mi hanno tagliato la carotide Ragazzi Aia Ah 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 ecco Moro Arco non ho le gambe Che funzionano purtroppo Eh no Purtroppo sono molline Sono liquide Come la Juve Che esplosione incredibile Andiamo verso Sono morto No moro Ma io non posso fare nulla Ma dai mi stai facendo i servizi Mi ha ucciso Fortnite Kennedy Ma dai Che è questo Alizzare questo C'è la pipa Ma che gamba Ma vedo la pipa Ma guarda che l'arco Torna indietro Che fastidio Quindi c'era Fernando Alone Eh sì Ho ucciso Fernando Alone Prima Bellissimo Fernando Alone Prossimo personaggio Di For The King Quando lo faremo E' niente Dovremmo fare For The King Stemattina Ma Nuovo mi sembra un po' E' niente Che schifo Guarda Però dai E' ci arrivo E' veramente fastidiosa Sta roba E' non era qua No era qua dietro Sinistra Sinistra Quanto olio qua Non ho colpi Di niente Ottimo Madonna Bestia Zoro Amici io direi che possiamo finire questo supplizio Questo supplì Buoni Arancino o arancina Arancia Trago la limone Pesca banana Tu sei un tremone Non mi si chiude il gioco Neanche a me è rimasto qua così Quindi Ci vediamo questa sera con Joe Guesser Questa sera Joe Guesser Alle 8 qui Presenti Che Si batte il record Stasera me lo sento Ma mi sembra strano Che storia Mi sembra strano anche a me No secondo me Quanto è il vostro record? 21 Eeeh Nice Ciao belli Ciao bellezze Ciao ciao